Un bel sabato, mister, è il nono risultato utile consecutivo, è la settima vittoria nelle ultime nove gare, anche una vittoria con una sofferenza nel finale, con un cuore grande, ma anche con una grande prestazione, soprattutto nella prima ora di gioco mi verrebbe da dire. Sono numeri importanti, è innegabile, bisogna dirlo, bisogna fare i complimenti ai ragazzi, perché in questo campionato fare questi numeri non è semplice. Abbiamo fatto secondo me un'ora buonissima, sì l'ultimo quarto d'ora ci siamo un po' abbassati, è un difettuccio che abbiamo, oggi l'abbiamo gestito un po' meglio delle ultime volte, quindi piano piano arriveremo anche a essere al regime lì. Faccio i complimenti a tutti, perché comunque per un motivo o per l'altro anche la linea difensiva soprattutto cambia di interpreti e sono sul pezzo, non devono mollare di nulla, sono contento comunque che la vittoria ce l'ha regalata a un ragazzo giovane, anche questo è un bel segnale, e tutti quelli che sono entrati oggi sono stati spaziali. Carroby ha fatto due o tre accelerazioni che ci ha fatto respirare, Marco ci ha dato un equilibrio davanti, Rashid, insomma non ne parliamo, mi dispiace per quelli che hanno reso disponibili, Orfeini è entrato la grandissima, è un gruppo che in questo momento qua sta facendo veramente un gran lavoro, dico sempre a loro di abituarsi in questo momento qua a tutte le pressioni che ci sono, perché ci sono, e di viverle bene, non ci deve creare tensione, ma ci deve dare la forza di abituarci a rimanere lì il più possibile, affrontando una partita alla volta e preparandole bene come le stanno preparando in settimana. E poi la ricetta migliore forse è godersi il momento e voltare già pagina, perché poi mercoledì si gioca e quindi il tempo per godersela è anche poco. Sì, a volte mi dispiace un po' nel senso che mi piacerebbe godermela di più e che loro se la godessero di più, però è anche vero che questo è un campionato talmente importante dove anche il giorno libero devi pensare alla partita dopo, soprattutto quando giochi mercoledì, perché ripeto, ma come dicevo ieri ai tuoi microfoni, questo campionato è veramente difficile e ogni partita, e oggi è stata la testimonianza, l'avversario ha veramente delle doti diverse da tutte le altre, chi fisica, chi tecnica, chi di gamba, di chi palleggia, di chi va in transizione, quindi bisogna affrontarle bene, i ragazzi lo stanno facendo bene, quindi complimenti vanno tutti a loro.